Passiamo alla seconda ospite, anzi sono due ospiti che arriveranno adesso. Online raccontano una maternità fatta sì di felicità, ma anche di tante difficoltà senza assolutamente vergognarsi di raccontarla, anzi, quindi senza sensi di colpa e senza giudizi. Durante e dopo il lockdown hanno avviato alcune campagne di sensibilizzazione sulla riapertura delle scuole e su quelli che sono stati effettivamente i grandi trascurati in queste fasi di riapertura e cioè i bambini. Abbiamo con noi, vediamo se si stanno collegando, Sara Malnerich e Francesca Fiore, che sono conosciute online come mamma di merda, benvenute. Buonasera, buonasera. Ciao Sara, vediamo se recuperiamo anche Francesca, eccola. Benvenuta. Solita connessione delle valli. Grazie, ciao Nicole. Ciao, ciao a entrambe, grazie intanto per essere qui e aver accettato il nostro invito. Dicevo prima mentre vi presentavo che nel blog e appunto nei vostri social raccontate una maternità priva di nuvole rosa, di unicorni dove nessuno si trasforma miracolosamente in un angelo del focolare, ma una maternità molto umana, fatta sì di felicità ma anche di tante difficoltà e magari anche di un senso di inadeguatezza. Com'è essere mamma in Italia nel 2020? Felicità, momenti e futuro incerto? Vuol dire? Sentite adesso? Sì, adesso ti vediamo e ti sentiamo Francesca. Ecco, il futuro è adesso. L'incertezza regna sovrana. Ok, ho dovuto fare per il telefono cellulare all'ultimo secolo. Vai tranquilla, la mia domanda l'hai sentita Francesca? Sì. Perfetto. Bene, allora la donna nel 2020, la mamma nel 2020 è chiesto, giusto? Sì, essere mamma è ovviamente donna, sì, nel 2020. Eh, allora sembra che non abbiamo fatto un grandissimo affare perché ci sono delle aspettative molto alte che abbiamo anche noi innanzitutto su noi stesse. Da un lato vogliamo aderire a quel modello degli anni 50 che si occupa benissimo dei figli, prepara i pranzi, le cene, si occupa della casa e dall'altro lato dobbiamo anche però continuare a lavorare come se fossimo negli anni 90, fossimo dei yuppie, super carriera e quindi l'inzione è che ci aspettiamo da noi stesse di lavorare come se non avessimo figli e di crescere figli come se non avessimo un lavoro. Ovviamente è difficilissimo, questo ci scatena dei sensi di colpa enormi. Siamo un po' vittime anche di un retaggio patriarcale che nel nostro paese e ci trasciniamo dietro da sempre. Ci si aspetta noi che rinunciamo una volta a mezzo al mondo un bambino alla donna che eravamo prima, mentre dovremmo fare uno sforzo e cercare di tenere insieme queste due persone che siamo noi precedenti e le noi madri. Però non è molto semplice, dobbiamo rivendicare questa integrità e cercare di bandire di colpa che derivano dalla frustrazione di non riuscirci molto spesso. Anche perché spesso ci sono anche i giudizi degli altri, chiedo anche a te Sara, che non ci rendono assolutamente facile questo percorso. Ecco, noi del nostro blog che curiamo da circa tre anni e mezzo è un blog ironico che ha iniziato appunto a parlare di maternità in maniera disincantata ma parlando fuori dei denti, con leggerezza che non è superficialità e mettendo a nudo tutti quegli aspetti di cui poco volentieri si parla. Per fare questo ovviamente abbiamo dovuto fare un'operazione me ne frego del giudizio, anche perché il giudizio è quello che anche il giudizio che viene appena percepito, anche il non detto, è quello che rende più faticosa la maternità. Sembra che tu debba aderire assolutamente a un modello, a uno standard assolutamente tra l'altro inesistente, inarrivabile, cioè ci saranno anche sicuramente queste mamme meravigliose, beati loro, ma non è funzionale alzare la speciella in questo senso, perché genera chiaramente un senso di inadeguatezza immediato nella donna e di colpevolizzazione, perché si tratta soprattutto di avere la responsabilità di un altro individuo. Da questo senso di inadeguatezza, tutta quella frustrazione che poi si può tradurre in un vero e proprio malessere psicologico, psicofisico. Ecco, noi ce ne siamo fregate di questi giudizi e abbiamo iniziato a dire le cose come stanno, perché noi ci siamo anche riferiti ai sacri testi, diciamo abbiamo provato a fare un iter canonico, leggendo i manuali, cercando in rete, però non abbiamo trovato una narrazione coerente con quello che stava realmente succedendo a noi in quel momento. L'abbiamo fatto usando lo strumento, uno degli strumenti più potenti che l'uomo ha di difesa, che è l'umorismo, non lo diceva noi, lo diceva Freud, e questo ci aiuta in realtà a renderci anche più fluidi all'adattamento, a leggere le criticità in una maniera diversa, ci pone in un altro punto di vista, oltre che in un altro mood psicologico. Il fatto che ci dicano sin da quando siamo bambine che è tutto naturale, poi ti verrà tutto naturale, è uno stereotipo molto pesante e molto pericoloso. assolutamente. Quindi no, posso anche continuare ad oltranza, sono proprio i nostri temi. Quindi cosa abbiamo fatto? L'operazione che abbiamo fatto noi, quale è stata? Abbiamo elevato in realtà questa inadeguatezza al sistema. Abbiamo detto ok, così forse possiamo parlarne di questo senso inadeguatezza, possiamo ammetterlo, possiamo rivendicarlo. E se ammetterlo significa dire io mi sento inadeguata, forse lo sono, forse non sono capace, significa essere una mamma di merda, benissimo, sdoganiamo anche quello. Anche perché così magari chi effettivamente si sente in quella situazione ha circondato anche un po' più di solidarietà, perché delle volte parlare appunto delle difficoltà sembra essere quasi un tabù, no? Perché no, va tutto bene, come dicevi tu, siamo nate per questo e sicuramente ci verrà spontaneo, invece poi non è sempre così insomma. E quindi bene che ci sia anche questo senso di solidarietà che grazie anche all'umorismo riesce magari a risollevare chi sta affrontando quel momento con un certo tipo di difficoltà o uno riesce, o si sente una mamma di merda, come dicevi giustamente tu. In questo momento, diciamo nei mesi scorsi, si è creato un po' un dibattito che comunque continua ad andare avanti perché non ci sono delle soluzioni vere e proprie e quindi è partito questo grosso dibattito sulla chiusura e la riapertura delle scuole. In conseguenza appunto la diffusione ovviamente del coronavirus sono state chiuse, però poi non si sono ancora trovate delle soluzioni e non si capisce ancora bene come verrà gestita la riapertura delle scuole. Questo dibattito ha visto da un lato, secondo me, delle posizioni un po' medievali, perché alcune si sono aizzati contro le madri che chiedevano la riapertura delle scuole dicendo mamma perché volete parcheggiare i figli, non vi piace tenerveli e averli lì tutti i giorni e invece non è questo il punto, però purtroppo c'è ancora questo pregiudizio in molti casi che è entrato appunto in questa discussione. Dall'altro lato invece appunto c'è il tema molto più importante del diritto allo studio dei bambini e anche poi delle situazioni di difficoltà che si sono create per le mammi lavoratrici e le famiglie comunque perché ci sono anche dei papai, ricordiamolo, che si sono trovati a dover tornare a lavorare senza avere gli equilibri che erano stati creati prima nella gestione familiare e nella gestione dei figli. Quali sono secondo voi dal vostro punto di vista, ovviamente dalla vostra esperienza, le soluzioni adottabili o auspicabili per un ritorno a scuola e a una gestione familiare che non vada inevitabilmente, perché purtroppo c'è ancora forte questa mentalità, a danneggiare le donne, visto che in questi mesi vi siete molto battute proprio per questo. Partiamo dalla tua premessa, ci hanno tacciato di essere delle parcheggiatrici abusive, voi figli non ve li volete tenere, li avete fatti, adesso li volete scaricare. Noi che eravamo lì come la DHA lì, tra 300.000 convenze ci è ribollito il sangue nelle vene, però poi ci siamo dette, beh ma in fondo chi la pronuncia, chi di chi la riceve, perché svela una profonda ignoranza, perché per noi la scuola è un posto, dovrebbe essere, un posto meraviglioso, è il modo in cui la società ingloba e educa il futuro del proprio paese, quindi per noi la scuola è l'habitat naturale del bambino, il parcheggio in realtà è la televisione, mentre la mamma fa lo smart worky, o come diceva prima Edith, il remote worky, oppure la babysitter, quello è più il parcheggio. La scuola invece è il modo che la società ha architettato per tenere insieme anche il lavoro degli adulti, perché è anche welfare la scuola, noi dobbiamo andare a lavorare, abbiamo questo brutto vizio di mangiare, ci stiamo provando ma non riusciamo a smettere e quindi è indispensabile che i bambini siano in un ambiente sano e ricco di stimoli durante il giorno. E poi quando le scuole hanno chiuso fondamentalmente è ricaduto tutto sulle spalle delle donne, o per la stragrande maggioranza dei casi sulle spalle delle donne, perché ci sono due motivi, in Italia come dicevamo prima c'è questo retaggio patriarcale, secondo il quale è la donna che deve naturalmente prendersi cura, ma c'è anche un aspetto economico, in Italia c'è un gender pay gap importante e quindi a livello pratico appare naturale che quello dei due che nella coppia contribuisce meno al welfare familiare, rilunci poi al proprio lavoro. Ci sono state però anche delle testimonianze che mi hanno sorpresa perché per esempio alcune della nostra community ci hanno raccontato che nonostante loro fossero quelle che guadagnavano di più, hanno comunque deciso di rinunciare al lavoro perché questo patriarcato fa male anche agli uomini, è nocivo per tutti, perché l'uomo che si prende i congedi è mal visto dal proprio capo e probabilmente non viene considerato nel momento in cui c'è un avanzamento di carriera possibile, quindi è dannoso ed è tossico per tutti. Quindi c'è stata una colpevolissima mancanza di appoggio e di supporti da parte del governo, c'è stata proprio una rimozione del tema, anche dai discorsi della retorica del governo, questo ci ha fatto veramente arrabbiare tanto, perché le donne sono importantissime nell'economia di un paese, noi pensiamo che in Italia solo il 50% delle donne lavora al nord e invece al sud solo il 25% e l'Istat ha stimato che probabilmente durante questa emergenza la percentuale scenderà di oltre 20 punti. Ecco, se non la vogliamo vedere dal punto di vista della parità di genere, guardiamola dal punto di vista economico, perché sono soldi per tutti. Certo. Sì, in realtà questa cosa è già successa e sta succedendo, perché se guardiamo i dati, solo nei mesi di marzo ed aprile l'occupazione femminile è scesa di due punti e mezzo. La questione, oltre che culturale, ma adesso non vi riveleremo di certo il vaccino per il Covid, dicendovi queste cose, non cadrete dalle nuvole, la questione è sicuramente culturale, l'esempio che faceva Francesca di donne che pur guadagnando più del compagno, del partner, hanno rinunciato ad andare a lavorare per gestire i propri figli è di natura culturale, cioè il cosiddetto nurture, cioè sei donna lo devi fare te, perché sei donna, non ci piove su questa cosa. Quindi è necessario uno spostamento sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista pratico. Dal punto di vista economico, in realtà lo sappiamo già che cosa comporta, no? Il fatto che il lavoro di cura venga assorbito completamente dalle donne, solo nell'Unione Europea queste disparità di genere portano ad una perdita annuale di 370 miliardi di euro. Questa è un'importante emorragia che non tocca solo noi, tocca a tutti quanti, perché suturare queste emorragie significa stare meglio tutti quanti. La parola chiave in questo momento per noi è la condivisione, è la compartecipazione maschile a questi temi, proprio perché li riguardano, non sono temi solo che riguardano le donne e serve anche una compartecipazione pratica. Noi nel nostro blog, ad esempio, abbiamo uno dei nostri claim è sì, pinguina, ovvero fai come la natura, no? Non il nurture, fai come la natura. In natura la pinguina imperatrice fa l'uovo e lo lascia al suo maschio a covare per due o tre mesi. In questi due o tre mesi la pinguina con le altre femmine del branco vanno a procacciare il cibo per la famiglia, si vanno a rifocillare, poi tornano e tornano a fare le mamme e a condividere con il loro pinguino maschio tutto quello che insomma sa da fare. Del resto anche la nostra società è già strutturata in questo modo, per ricollegarmi a Francesca. Lo prevede la Costituzione in Italia, cioè ogni cittadino, dice la Costituzione, ha il dovere di svolgere un'attività che concorra al progresso materiale e spirituale del paese. Quindi gli adulti, le donne sono cittadine, gli adulti e le adulte hanno questo compito. Il compito dei bambini, oltre a quello di essere bambini e ovviamente di fare semplicemente bambini, è quello di istruirsi, perché come dicevi tu, l'istruzione non è solo un diritto, è anche un dovere, si chiama scuola dell'obbligo. La scuola in questa struttura svolge una funzione sociale ben precisa. Adesso ovviamente diamo per scontato che la funzione pedagogica, formativa, educativa della scuola l'abbiamo tutti digerita, metabolizzata, no? E ne siamo ben consapevoli, speriamo anche la nostra politica che si dia un po' una svegliatina su questo tema. Se viene a cadere uno dei tasselli in questa struttura, il sistema non può reggere se le scuole sono chiuse, se a settembre torneremo a scuola con orari ridotti, se si continua a parlare di didattica a distanza per certe fasce di età, il sistema allora deve essere rivisto, deve essere rivisto, oppure semplicemente bisogna cominciare a fare anche dei ragionamenti di sistema di ampia gettata, oltre al fatto appunto di riaprire le scuole a settembre il prima possibile, di non rimandarne ulteriormente l'apertura, ma bensì anticiparla, perché abbiamo anche il 30% dei bambini italiani che ce li siamo persi con la DAD, che non sono stati raggiunti, il 30% è una cifra importante, è una cifra preoccupante. Riaprire prima le scuole non significa solo recuperare la didattica per i bambini che l'hanno perduta, ma tutti i bambini, anche quelli che sono stati più seguiti, hanno perso 4 mesi di scuola, insomma questa cosa non ci piove. Oltre a servire a recuperare questa parte, la riapertura anticipata aiuta le famiglie, aiuta le donne, perché durante il lockdown sono state scaricate tutte le ferie, tutti i permessi? Non è una questione di parcheggio, è una questione sociale, di welfare. Poi se vogliamo ragionare non solo nell'immediato, ma proprio sognare, si dovrebbe cominciare a fare appunto un ragionamento di sistema, ad esempio pensando ai servizi per l'infanzia per gli 0-6 anni. Che cosa significa integrarli nel sistema, in un sistema di istruzione? Significa che le donne possono tornare a lavorare prima, possono tornare a lavorare full time, possono cercarsi un lavoro se non ce l'hanno. questi sono ragionamenti che è necessario iniziare a fare, perché tenere ferme le donne in un paese significa tenere ferme risorse. Le donne sono forza lavoro, che si traducono in punti PIL. Sì, purtroppo ci sembra che ce le dimentichiamo ogni tanto, questa importanza appunto, e come tu la necessità anche di rivedere in questo momento anche il sistema, perché ti è tanto parlato di, ah il mondo non sarà più quello di prima, siamo tutti cambiati, siamo tutti provati anche da questa esperienza che nessuno si aspettava di vivere e ci siamo ritrovati in mezzo con tutte le complessità, anche a livello del peso psicologico di questa situazione, il peso anche di chi ha perso parenti e amici, ma anche chi si è semplicemente ritrovato, semplicemente tra virgolette, appunto a casa, dover gestire un lavoro in smart working, la dad, tutte le incombenze familiari e magari anche l'assistenza a familiari anziani, eccetera, e quindi un equilibrio davvero difficilissimo da trovare, che è stato dato un po' per scontato secondo me in questo momento e continua ad essere dato per scontato. E in questa intervista infatti cerchiamo un po' di fare un viaggio verso futuri possibili, ma anche di raccogliere proprio spunti, perché questi futuri possibili non è detto che siano già scritti e possiamo anzi, il nostro scopo è anche un po' quello di progettarli assieme, quindi chiedo anche a voi se, per prendere anche qualcosa di positivo da questa esperienza che ci siamo ritrovati a vivere e per migliorare. Voi, verso che mondo possibile vorreste andare e che cosa pensate sia prioritario per renderlo effettivamente reale? Beh, io vivo già in un mondo molto migliore di quello che è in realtà, perché sto passando, sto cercando di passare alle mie figlie un'eredità morale che però presuppone che al mondo non esiste il razzismo, non esiste il sessismo, non esiste l'omofobia, perché questi sono dei pregiudizi che non sono insiti e innati nei bambini, ma siamo noi adulti che glieli instigliamo. Se noi provassimo tutti insieme a crescere i nostri figli senza giudicarli, perché il bambino gioca con la bambola, perché pretendiamo che la femmina ci aiuti a sparecchiare mentre non abbiamo la stessa pretesa dal fratellino. Insomma, se tutti insieme provassimo ad assecondarli, ad accettarli per quello che sono, a evitare di etichettare e giudicare continuamente i comportamenti altrui, forse potrebbe essere che questo mondo che io sto dipingendo alle mie figlie poi esista per davvero, perché ho il terrore che una volta cresciute loro mi rinfaccino il fatto che, ah mamma però non me l'hai detto che devo fare il doppio della fatica del mio collega maschio per arrivare allo stesso livello. Ecco, io mi rifiuto, lo rifiuto talmente tanto questo concetto che non glielo passo. Per esempio, vi volevo fare questo esempio di una volta che mia figlia mi ha dato una grandissima lezione di vita, lei aveva tre anni ed era nella fase dei perché, stavamo guardando una fiction televisiva e c'erano due uomini che si baciavano e questi due uomini erano due carabinieri in divisa. Quindi io mi sono preparata al suo perché, mi sono preparata tutto il pippotto sull'omosessualità e perché sì, un uomo bacia un altro uomo e lei alla sua domanda arrivata puntuale mi ha chiesto, mamma ma perché quei due sono in divisa e carnevale? Ecco, questo riassume perfettamente il fatto che lei non avesse nessuna malizia e la cosa che l'ha stupita di quella scena di affetto fosse la divisa e non il bacio. Quindi si può essere buddisti, si può essere musulmani, si può essere atei, non giudichiamo nessuno. E poi c'è un'eredità anche economico-legislativa che vorrei lasciare alle mie figlie, un po' più pragmatica. Adesso c'è questa grossa opportunità con il recovery fund che è un debito in realtà che stiamo contraendo sulle spalle dei nostri figli e sarebbe bene che venisse speso per il futuro del nostro paese, perché un paese che non investe nel proprio futuro è un paese morto e infatti stiamo morendo perché siamo il paese con il tasso di natalità più basso d'Europa e uno dei più bassi al mondo. Quindi ecco, investiamo sul futuro. Sì, in realtà questo mondo possibile che stiamo immaginando è molto più possibile di quanto immaginiamo perché ci sono già delle analisi, delle proiezioni economiche in merito appunto con la destinazione di investimenti mirati a livellare queste disparità di genere. Mi riferisco all'analisi che ha fatto ad esempio un'economista italiana che si chiama Zurra Rinaldi, che fa parte del movimento del Dateci Voce, che sta sostenendo Half-Bit, che chiede appunto che il 50% delle risorse di questo recovery fund vengano investite a sostegno delle donne. Questa proiezione che hanno fatto questi studi hanno dimostrato che raggiungendo la parità di genere nel 2050 ci sarà un aumento del PIL che oscilla tra il 6,5% e il 9%. Si può fare! E neanche tra tantissimo tempo tra l'altro, relativamente breve, potrei vederlo. Potremmo vederlo se non sicuramente i nostri figli, le nostre figlie a cui stiamo impotendo le risorse in questo momento, a cui stiamo ipotecando il futuro. Quindi sarà bene pianificare per precisamente dove vogliamo andare ad investire. Benissimo, io ricordo a chi ci sta seguendo che se ci sono domande, commenti, ecco ne arriva uno proprio giusto, di Valentina che dice non ho ricordo di aver sperimentato le differenze di genere all'interno della scuola, però adesso che ho 30 anni sento che le differenze ci sono e come? Da dove nascono e come contrastarle? domandona. Valentina ci sei andata a piano, eh Valentina? Tanto. Le differenze di genere nella scuola. Hai 30 anni quindi in che senso? Nella scuola? No, no, nel senso che lei diceva che no, no, prima quando era piccola non le aveva percepite, mentre adesso che è una durata, si è resa conto che effettivamente ci sono e come, anche se magari da bambina, da ragazzina a scuola non le aveva. Probabilmente Valentina viveva nel mondo fatato dove vivono anche le mie figlie, quindi c'è qualcuno che fa filtro o magari stata molto fortunata. Abbiamo anche sviluppato una consapevolezza diversa anche in merito a questo retaggio patriarcale che come donne stesse noi abbiamo interiorizzato e a volte noi stesse facciamo fatica, no? A distinguere cosa è sì e cosa è no. Poi adesso finalmente cominciano a saltare forte dei campanelli e appunto saltiamo sulle sedie e vediamo che anche a scuola magari si verificano delle situazioni. Come possiamo fare? Come possiamo fare Valentina? Questo spostamento culturale? Bisogna assolutamente chiamare i nostri signori uomini a partecipare al dibattito, a condividere. Dobbiamo continuare anche se risultano molto sordi purtroppo da questo orecchio. Ce la faremo, ce la faremo e c'è una grande forza che in realtà si genera quando le donne si mettono tutte insieme e si mettono in testa una cosa e noi l'abbiamo sperimentato su noi stesse, sulla nostra pelle, con la nostra community, con la grande rete che si è creata in questo lockdown appunto con tutta una serie di comitati, con priorità alla scuola, tutte donne. Benissimo, io vi faccio l'ultima domanda, ovviamente se qualcuno che ci sta seguendo ha altre domande e volentieri questo è il momento di scriverle nei commenti e noi le giriamo subito a Sara e a Francesca. Intanto vi faccio la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti perché appunto questa è una specie di viaggio immaginario a tappe che stiamo facendo e come ogni viaggio che si rispetti abbiamo una valigia. Voi che cosa vi portereste o che cosa dobbiamo portarci secondo voi in questo viaggio? Quindi che cosa mettereste nella vostra valigia? Può essere un oggetto, un concetto, un'idea? Quello che sentite che è fondamentale portarsi in questo viaggio. Io sono una donna estremamente pragmatica quindi mi porto la vodka perché sono una grande fautrice del cicchettino serale che testimonia che siamo arrivate vive fino a sera abbiamo sfangato un'altra giornata e inizia tantissimo anche tutte le problematiche varie di salute, qualsiasi cosa e poi un megafono perché penso che dovremo come diceva anche insomma come abbiamo detto anche a Valentina dobbiamo continuare a urlare, continuare a parlare, continuare a spiegare, a pretendere, a rivendicare. Ecco a un certo punto probabilmente le corde vocali ci abbandoneranno e avremo bisogno di un ausilio tecnologico. È la seconda tra l'altro bottiglia di alcolico, questa valigia promette bene perché un altro ospite Maurizio Carucci ha messo una bottiglia di vino quindi ok. Ma andiamo dalla stessa parte forse. Esatto. Veniamo con te, veniamo con te. Io invece non sono per niente una donna pragmatica, cioè pragmatica sì, pratica no, anzi sono proprio una pippa a fare le valigie quindi mi porterò un sacco di roba, sicuramente il rossetto rosso, anzi condivido tutte le scelte stilistiche, tutte le nuanze della ministra Azzolina e sicuramente degli assorbenti che sono quei beni rifugio ormai in Italia che, lo so, magari ti va male, te li vendi, no? Come un lingottino. I nuovi diamanti, esatto. Quindi ecco, teneteveli sempre, sono piccolini, comprate quelli piccoli. La consapevolezza sicuramente che abbiamo acquisito fino a oggi e quella nuova che è arrivata in questa emergenza, che non ci faccia arretrare di un passo rispetto a dove siamo arrivate. Non dobbiamo chiedere, dobbiamo rivendicare diritti naturali e dobbiamo continuare ad usare quel megafono di Francesca da sobri e possibilmente urlando con più forza, perché si ottiene e quando forse si chiede con più forza. E sicuramente il senso dell'umorismo, perché se no è un viaggio che veramente diventa... Grazie mille Sara e Francesca, grazie davvero per la carica che ci avete portato qui questa sera. Invito tutti quanti ovviamente a seguirvi e a supportarvi nelle battaglie che state portando avanti oggi e vi ringrazio davvero tantissimo per essere state con noi. Grazie a voi. Grazie a te, ciao a tutti, ciao Vicenza.